La seduta del 4 dicembre Il Consiglio regionale ha approvato vari ordini del giorno, rispettivamente di solidarietà alle forze di polizia e sostegno delle persone in stato vegetativo per l'abilitazione della laurea magistrale per il concorso per insegnanti contro i segni di antisemitismo nel Vercellese e contro la chiusura dell'ILVA di Novi Ligure. Nel pomeriggio, dopo gli ultimi interventi generali sulla delibera per la razionalizzazione della spesa regionale, l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta, Roberto Cotta, sulla situazione politica. Difensore civico in collegamento Skype Il 5 dicembre si è svolto il primo collegamento in videoconferenza via Skype tra il difensore civico Antonio Caputo e una utente. Il servizio è attualmente attivo presso gli uffici in relazioni con il pubblico della regione di Alessandria, Cuneo e Verbania e verrà poi esteso a tutto il Piemonte. Grazie a questa tecnologia di comunicazione sarà sufficiente una telefonata per ottenere un colloquio, evitando trasferte e conseguenti costi e perdite di tempo. Le spedizioni scientifiche ai tempi dei Savoia Una sorta di erasmus militare anti-litteram potrebbe essere definito così il viaggio al centro del racconto dell'utilité e dell'importance des voyages d'un song propre pays, scritto nel Settecento da spirito benedetto Nicolis di Robilang e conservato all'archivio di Stato. La ristampa integrale del volume è stata promossa dal Consiglio regionale, curata dall'artistica editrice di Savigliano e presentata giovedì 6 dicembre a Palazzo Lascaris. Nuove frontiere del lavoro Al centro congressi della Regione Piemonte il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido è intervenuto al convegno Il mondo che cambia le nuove frontiere del lavoro. E' questo l'appuntamento annuale rivolto agli studenti medi promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione e dal Comitato Resistenza Colle dell'IS. Corsisti CFOIL a Palazzo Lascaris Studiosi della Green Economy provenienti da numerosi paesi hanno visitato Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, accolti dal consigliere segretario Gianfranco Novero. Si tratta dei corsisti del Green Jobs Learning Forum del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro CFOIL. Riconoscimento al Consiglio regionale Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricevuto a Genova il riconoscimento della menzione d'onore nell'ambito del premio Chiara Lubic per la Fraternità. La cerimonia si è svolta a Palazzo Tursi, sede del Comune, inserita nella tre giorni di incontri su fraternità, città e politica. A rappresentare l'Assemblea Legislativa Piemontese sono stati i consiglieri Gian Piero Leo e Rosa Anna Costa.